Ciao a tutti, questa mattina ci troviamo nella stazione ferroviaria di Milano-Lambrate per lanciare un'importante iniziativa del Movimento 5 Stelle Lombardia. Questa è la prima di una serie di campagne informative che faremo in tutta Milano e anche nella provincia. Ma perché siamo qui questa mattina? Perché dopo gli aumenti di sala a Milano con i biglietti a 2 euro partono gli aumenti della Lega in Regione Lombardia. E qui abbiamo degli aumenti che andranno sugli abbonamenti solo treno a portarli a essere non più competitivi con quelli integrati. E quindi avremo aumenti che vanno dal 20% al oltre il 50% per i pendolari. Insomma la Lega mette ancora le mani nelle tasche dei cittadini e dei pendolari. Abbiamo presentato una mozione urgente, speriamo che venga calendarizzata e discussa e venga anche votata, con la quale chiediamo alla Giunta di sospendere la delibera di Giunta, con la quale dal 1 ottobre scatteranno questi aumenti assolutamente ingiustificati. Tra l'altro questi aumenti assolutamente ingiustificati, dato anche il servizio che noi pendolari conosciamo, la scarsa qualità del servizio che dà Trenord, porterà nelle casse di Trenord un aumento di circa 8-10 milioni di euro. Un bel regalo a Trenord sulla pelle dei pendolari. Da questa mattina sui nostri canali troverete, oltre al modulo di raccolta firme, la nostra petizione online e il nostro volantino. Vi chiediamo di firmarla, di condividerla e di informare tutti i vostri contatti. Passate parola, arrivederle stelle.